Ebbene sì, l'ho fatto. Non pensavo l'avrei fatto, ma ho ceduto. Wabalabadabdab e bentornati su Un nome a manmazzo. Come avrete intuito dal titolo qui sotto, ho voluto vedere la prima puntata di Superman e Lois, nonostante all'inizio snobbassi questa serie. Perché? Perché, comunque, l'ho già detto anche negli altri social dove mi potete trovare, anche nelle ospitate appunto, per esempio, del buon Atex sul sito Viola, in cui si parla spesso di Flash, io, con la mia veneranda età, ho già visto delle avventure che si concentravano sulla vita privata, la vita sentimentale di Clark Kent e Lois Lane, che sono appunto le avventure di Lois e Clark, una serie tv che mi ha avvicinato all'umanità di Superman, una serie tv che mi è piaciuta molto, siamo nel periodo 92, quindi due anni dopo il Flash del 1990, mi è anche piaciuta molto e non avrei assolutamente guardato una serie simile, perché francamente non ne sentivo il bisogno. Anche perché l'universo CW mi piace per quanto riguarda la serie di Flash, mi piace vedere nei crossover questo universo condiviso che in altre opere televisive non c'è mai stato, c'è il Marvel Cinematic Universe, ma lì parliamo di cinema, anche se lì si interagisce anche con la tv ma un altro discorso, ma per quanto riguarda la DC Comics c'è questo DC Extended Universe, che sappiamo tutti essere un po' sfortunato, ma a livello di serie televisiva è la CW che regna, lasciando perdere che la qualità a volte sfocia nel Melenso, nella storia d'amore, nel Dozen Creek, nella CGI che è quello che è per ovvi costi, ovvi budget a disposizione, ma noi di questo non ce ne frega niente, ogni tanto ci godiamo questi bellissimi crossover della CW, ma non mi sarebbe mai interessato approfondire persino il Superman di Tyler Euchlin, che a sua volta è un comprimario di Supergirl, eppure c'è stata una cosa che in questi giorni mi ha fatto cambiare idea, ovvero un'immagine, che vi metto qua se la trovo, ve la metto in descrizione, che mostra il Superman di Tyler Euchlin in intento a riprodurre la scena del primo fumetto di Superman del 1938, ovvero Superman che solleva un'auto, mostrando appunto la sua forza, salvando, presumo, l'automobilista e l'auto in sé. Questo Superman, il Superman di Tyler Euchlin, riproduce fedelmente la copertina del primo fumetto di Superman, che è il primo supereroe del mondo, quindi questo omaggio, questa citazione, mi ha fatto capire che, quantomeno nella prima puntata, la qualità, l'attenzione ai dettagli, l'amore per il personaggio, sarebbero stati presenti, ho voluto vedere appunto in che contesto c'era questa scena, era un flashback delle origini appunto di questo Superman, di questa nuova terra, con il costume fatto proprio dalla madre Marta. Vediamo in una piccola interazione con un bambino che ha assistito alla scena, alla semplicità, l'umanità di questo Superman, ed è stato davvero molto bello vedere questa intro, una puntata insolitamente lunga, parliamo di 60 minuti buoni, in cui ci mostrano che in cosa è diverso questo Superman dalle altre incarnazioni di Superman. Questo Superman di questa nuova terra, Terra Prime, ha avuto la sorpresa di avere due figli adolescenti, quindi noi in realtà non vediamo semplicemente le avventure della vita di coppia di Lois e Clark, ma vediamo un Superman che oltre a doversi occupare dei problemi del mondo, di salvare il mondo, si deve anche occupare della famiglia, non tanto in qualità di marito, ma anche in qualità di padre, padre di due figli che stanno entrando nell'adolescenza, di due figli quattordicenni, gemelli, che potrebbero avere i suoi poteri, potrebbero non averli, non sa come gestire la sua paternità, il suo ruolo di padre, e qua arriva comunque il bello, quanto meno perché il primo episodio è scritto molto bene, non ho mai dubbi sui primi episodi delle serie CW, soprattutto nelle prime stagioni, perché comunque si concentrano molto sui pilot, si concentrano molto su quello che vogliono far vedere al pubblico, poi magari lungo le stagioni, lungo le 24 puntate, che sono tantissime, la qualità in alcuni episodi sicuramente cala, sicuramente ci sono degli episodi filler, lo abbiamo visto tutti con la sesta stagione di Flash, con la quinta, però sui primi episodi si può andare sicuri. Io non voglio spoilerarvi troppo, vi posso dire appunto che vediamo questo primo costume di Superman, vediamo il costume attuale di Superman, che finalmente è migliorato, abbiamo questa nuova cintura di Superman, che non è più dritta e fa sembrare Tyler Oechlin un rettangolo, e finalmente segue un po' la curva del suo corpo, il nuovo costume sembra ancora più imbottito, perché sembra ancora più grosso, o l'attore si è allenato, non lo so, fatto sta che mi sembra molto calato nella parte di Superman, mi sembra molto calato nella parte di Clark Kent, è bello vedere nella prima puntata che tornano a Smallville, per un motivo che poi vedremo, vedrete appunto nella puntata, è bello vedere anche questa contrapposizione tra Metropolis e Smallville, c'è questo antagonista dietro le file, che non è Lex Luthor, ma è questo signor Edge, che io non so se era già presente anche in Supergirl, oppure è un nuovo nemico, perché non seguendo comunque Supergirl, se non nei crossover, non ve lo saprei dire, pare che ci sia questa eminenza grigia che tira le file dietro al Daily Planet e anche a varie imprese nella cittadina di Smallville, che sembra tramare appunto per loschi piani, che sicuramente Lois e Clark dovranno sventare con la loro arguzia nel giornalismo, e Superman nelle maniere forti. Quindi sono ansioso di vedere come si svilupperà la trama orizzontale, di cui abbiamo visto tantissimo in questa puntata, la trama orizzontale è incentrata sicuramente su appunto sul rapporto con la famiglia, su questi adolescenti che non hanno un ruolo marginale, ma sono anche loro protagonisti di questa serie, scopriremo se anche loro posseggono dei poteri, oppure no, e se li posseggono quali poteri posseggono. Sembra che tra i due fratelli ci sono caratteri completamente diversi, quasi sembra che uno dei due possa diventare un villain e l'altro potrebbe diventare il nuovo Superman. Fortunatamente le cose vanno in maniera diversa, quindi vediamo comunque una serie positiva con degli adolescenti, con una famiglia che è comprensiva, che riesce a crescere questi due figli nonostante i vari problemi dell'adolescenza, problemi dell'adolescenza che non sono semplicistici, perché comunque ci sono anche, mostrano il lato negativo di vivere in una cittadina di periferia come Smallville, mostrano anche i lati più negativi negativi della vita di un adolescente come quello di dover assumere dei farmaci perché si hanno dei disturbi, dei disturbi di ansia sociale. Mi piace che trattino questo argomento, poi magari passerà in secondo piano molto presto, però intanto mi piace che ci hanno mostrato che sanno parlare anche di cose un po' più reali in un mondo così fantasioso. Vediamo dove andiamo a parare. C'è anche un nemico di azione che se la prende con delle centrali nucleari in questo episodio, questo nemico d'azione che sembra Master Chief di Halo, non si sa chi è, o meglio si saprà alla fine del primo episodio, non ve lo voglio spoilerare, quindi andatevelo a vedere se siete curiosi, si intuisce alla fine dell'episodio chi è, ma potrebbe essere un nuovo volto a interpretare questo nemico. Chi lo sa? Io non voglio andare oltre, se vi interessa parlare a livello spoiler, magari facciamo una live in cui gioco a Injustice 2, come tra l'altro succede per qualche ragione in questo universo, i figli giocano a Injustice 2 nel videogioco, nel telefilm. Se volete facciamo una live insieme, una live spoiler in cui sul sito Viola ne parliamo mentre gioco a Injustice, nel frattempo guardatevi questo telefilm. So che Atex mi odierà perché ho fatto questa recensione, non l'ho fatta assolutamente per fare uno scherzo, come dicevo all'inizio, che l'avrei fatta solo per fargli un dispetto, in realtà ho visto questa cosa e mi ha incuriosito. Perché appunto il buon Atex è arrabbiato per questa serie? Perché questa serie ha rimandato di un mese l'uscita di una serie ben più rodata che è Flash. E è stata ovviamente una mossa astuta di marketing piazzare prima Lois e Clark in modo che la gente in hype per Flash piuttosto che stare all'asciutto si è stata costretta a guardare questa puntata che comunque ha reso molto bene. Vediamo poi se la puntata, la prima puntata della settima stagione di Flash sarà altrettanto bella. Sicuramente lo sarà, anche se sappiamo tutti che in realtà è più un continuo della sesta stagione che è stata interrotta per la pandemia. Quindi vedremo poi quando ci sarà il vero inizio della settima stagione di Flash. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchina e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Questo mese di marzo sarà non tutto ma per la maggioranza incentrato sulla DC Comics perché il 18 marzo uscirà la Snyder Cut del film Justice League che guarderemo e commenteremo insieme qua in un video e sotto nei commenti. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.